L'anticiclone di origine africana che ha interessato la regione per diversi giorni tende temporaneamente ad attuinarsi per il passaggio di un veloce e debole fronte freddo a nord delle Alpi. Già però dai primi giorni alla prossima settimana si ristabileranno condizioni prettamente cicloniche. Per sabato prevediamo quindi nuvoloso per nubi basse con qualche foschia o nebbia su bassa pianura e costa, in parte anche tra alta pianura e prealpi, tempo migliore invece sulla fascia alpina. In giornata nebbie e foschie probabilmente si dissolveranno ma rimarranno sotto forma di nuvolosità a bassa quota. Temperature minime tra 4 e 7 gradi in pianura, localmente più basse in caso di cielo sereno, più elevate sulla costa chiaramente tra 10 e 12 gradi. Temperature massime dovrebbero oscillare intorno ai 15 gradi anche in cui variabili a seconda della presenza o meno del sole e delle nebbie. Domenica prevediamo cielo in genere variabile su tutta la regione, quindi sia sulla costa delle pianure che anche stavolta su Alpi e prealpi. Sarà possibile però in serata maggiore nuvolosità a bassa quota e di nuovo la formazione di foschie o banchi di nebbia. Le temperature rimarranno stabili intorno ai 5 gradi minimi in pianura, intorno ai 10 e 12 sulla costa massime tra 13 e 17 gradi circa. Primi giorni della prossima settimana, quindi lunedì e martedì, dovremo avere nuovamente un'intensificazione della frequenza delle nebbie e delle foschie su bassa pianura e costa. Per il resto cielo nuvoloso sulle zone di costa di pianura, invece tempo migliore con inversione termica in montagna. E dell'Osservatorio Meteo dell'ARPA Arturo Pucillo vi saluta. Grazie. 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 Grazie.